Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni rigorosamente senza spoiler. Dal 23 maggio è uscito nei cinema l'attesissimo solo a Star Wars Story, capitolo spin-off della saga di Star Wars che ci svelerà qualcosa di più per quanto riguarda il misterioso passato dell'eroe reso celebre da Harrison Ford. Qui nel ruolo di Anzolo vediamo l'attore Alden Reinhardt, speriamo di averlo pronunciato bene, un attore giovanissimo che ha già lavorato con Francis Ford Coppola, i fratelli Coen e Sofia Coppola. Seguiamo il suo Han giovanissimo acerbo che avrà una vita difficile e l'unica consolazione sarà un'amicizia, quella con Kira. Ad interpretare la prima cotta di quest'eroe è lei, Emilia Clarke, la famosissima madre dei draghi di Game of Thrones. I due hanno una cotta, vogliono scappare da questo pianeta in ospitale e andare il più lontano possibile dall'impero. Ma se Han riuscirà a passare i controlli, lo stesso non varrà per Kira. Proprio per questo lui si riprometterà di ritornare per salvarla, ma i suoi piani non andranno proprio come se li ha immaginati. Inoltre il film svelerà alcuni retroscena, come quelli dell'amicizia tra Han e Ciube, così come il suo rapporto con Lando e soprattutto il vero amore di Anzolo, sto parlando del Millennium Falcon. Il cast vanta molti attori amati e anche apprezzati a livello critico, come Paul Bettany, oppure ancora Woody Harrelson. Ma nel cast c'è anche Donald Clover. Sicuramente recentemente avrete visto un suo video musicale, perché oltre alla carriera di attore, ha anche una carriera musicale sotto il nome di Childish Gambino. E recentemente il suo video musicale, This is America, ha fatto letteralmente il giro del web. Come accade per ogni film di Star Wars, il pubblico si divide e non ci sono mezze misure. Tra chi sostiene che sia il miglior film di Star Wars mai visto, e chi sostiene che questo film sia la rovina dei propri sogni d'infanzia. Avete visto questo film? Da che parte siete? Siete nel mezzo? Fatemelo sapere con un commento. Ma iniziamo a parlare un pochino di questo film, che ha avuto una storia un po' travagliata. E un po' si intravede guardandolo. I primi registri scelti sono stati licenziati, e al loro posto è stato chiamato Ron Howard, per rendere, così si vocifera, il film più normale. Lui quando si tratta di creare un film per famiglie, per ragazzi, è perfetto. E diciamo che solo parla benissimo ad un pubblico di giovanissimi, strizzando ogni tanto l'occhio anche ai fan, facendo delle battute, oppure ancora facendo delle citazioni. Il film ha diciamo due anime, punta tantissimo sul lato spettacolare, ma coltiva anche un certo lato comico, diciamo così. Il film stesso è poco serioso, non si prende troppo sul serio, e il personaggio stesso di Han Solo è un po' più tranquillone rispetto all'Han Solo che conosciamo. Secondo me il taglio del nuovo film è un po' a metà tra la trilogia prequel e la trilogia originale, prendendo secondo me la leggerezza della prima, prediligendo gli effetti speciali rispetto a quelli digitali per quanto riguarda la trilogia originale. Negli episodi recenti la saga di Star Wars è stata fortemente criticata per aver usato un po' troppo, secondo alcuni fan. Questo episodio è molto diverso, perché infatti di rischi se ne prendono abbastanza pochi, e può essere un'arma a doppio taglio. Il film infatti si svolge in un mondo fortemente controllato, con colpi di scena non sempre tali. Anche il personaggio di Han Solo potrebbe essere qualcosa di diverso rispetto a quello che qualcuno si aspetterebbe. Vediamo un personaggio e un eroe ancora molto acerbo, e abbastanza lontano rispetto a quello che conosciamo. Secondo me se dal lato spettacolare il film è davvero ben strutturato e molto coinvolgente, che per quanto riguarda la struttura narrativa, la caratterizzazione dei personaggi, ha un po' qualche pecca. Soprattutto i personaggi centrali, Kira e Han, a volte finiscono quasi in secondo piano, inghiottiti o dalla spettacolarità del film, oppure ancora dei personaggi secondari, interpretati da attori fortemente carismatici. Ma questa era la mia opinione sul film, essendo un film molto divisivo, sono curiosa di sapere la vostra opinione. Nel caso ci fossero spoiler, avvertite, così da non rovinare la festa a nessuno. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate su questo film, se avete un'opinione diversa dalla mia. Però non dimenticate di iscrivervi al canale social di Screen Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screenweek.it. Io sono Barbie Xanax, se mi volete ancora sentire parlare di cinema, serie tv, documentari, mi trovate sul mio canale, Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!